La realtà non mi piace più. La realtà è scadente. Non è mai possibile che questa città non ti fanno in mente niente a raccontare. Ed era bellissima. È un gigante! Insomma, schizzi, a dire che cosa riesco? A dire una cosa racconta? Sì! È di mail! È di mail! È di mail!